È successo circa all'una, un papà con la sua bambina di appena 4 anni stavano attraversando via dal pozzo, poco distanti dalle strisce pedonali, quando un'auto, proveniente da via Laghi, ha investito la bambina, che si era lanciata in mezzo alla carreggiata dopo essersi divincolata dalla mano del padre, urtato anche lui dall'auto. I due pedoni stavano attraversando dal bar verso le abitazioni, proprio vicino ai cassonetti. La bambina è stata trasportata immediatamente all'ospedale di Faenza, ma non sembra avvertere in gravi condizioni, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Municipale e i mezzi del 118.